Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come ridurre il ping, ovviamente se ne so fate 100 ping in un gioco e volete arrivare a 20 ping oppure 10 ping possiamo farlo grazie a questo trucchetto riguardo alle impostazioni di rete e internet che ci sono in gestione dispositivi. Ovviamente io ho fatto un test e come puoi vedere il mio ping è di 6.000 secondi con la velocità di 122 Mbps e la velocità upload 20. Quindi il ping non è niente male, ovviamente io uso pure il cavo LAN, poi dipende dalla zona, dipende dal modem, dipende anche dalla fibra ottica, fibra DSL, tutti questi cavi qua e tutta sta roba qua dipende veramente da tutto. Quindi se in questo caso hai problemi proprio con il lag, problemi di connessione, fai troppi ping possiamo risolvere questo problema andando su gestione dispositivi. Quindi tu grazie a questa impostazione su gestione dispositivi, questo per il cavo LAN e questo invece ti playing wireless che sarebbe il mio adattatore per connettermi alla connessione di rete, quindi io spesso uso il cavo LAN per ridurre il ping, quindi ti conviene per forza usare il cavo LAN e non usare più la connessione wifi. Se vuoi ridurre veramente il ping e aumentare anche la velocità in download, quindi se in questo caso non puoi usare il cavo LAN possiamo direttamente, io adesso passo alla connessione di rete, vado a disabilitare il mio ethernet e vado ad abilitare la wifi. Ok, una volta abilitata, si è connessa e adesso come puoi vedere si è disattivato il Realtek P6 che è la porta proprio dietro alla scheda madre dove io collego il cavo LAN e questo invece si è collegato perché è il mio adattatore per connettermi alla rete wifi. Se vado a cliccare tasto destro sopra, proprietà e vado su avanzate, grazie a queste varie impostazioni noi possiamo, questa cosa esiste veramente da tanto tempo e io adesso me ne sono accorto. Quindi se io adesso vado a mettere modalità wireless e metto l'ultima opzione di valore, faccio ok e vado a fare uno speed test, il ping si è ridotto a 5 ma la velocità download è tornata a 16 megabit al posto di 100. Quindi abbiamo ridotto ancora di più il ping ma abbiamo sacrificato un po' di velocità di download. Quindi sacrificando un po' di download in megabit e riducendo poi i ping è ancora meglio. Però se vuoi velocizzare ancora l'autoconnessione, impostazione rete e internet, vai su impostazione di rete avanzate, se trovo la scheda, questa qua, altre opzioni scheda. Andiamo su protocollo internet, versione 4tgpipv4, clicchiamo sopra e andiamo a scrivere 8888, che sarebbe il miglior server dns, 88844 e facciamo ok. Quindi utilizzando questa opzione su gestione dispositivi su come cambiare un po' la rete e internet, riducendo così anche il ping, ed è veramente una bellissima cosa. Puoi anche smanettarci sopra, fare dei test e vedere qual è che è meglio per te. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come ridurre il ping, aumentare la velocità in download, iscriviti, lasciate un like. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!